Speriamo, do un'ultima occhiatina alle istruzioni. Lasso, lasso, innanzitutto buongiorno signore, questa è la pastina, diamo una bella rinestolatina, come va, come va, e devi sapere che io sono veramente molto bravo perché ho una passione per questo mestiere proprio che mi prende tutto, mi piace tutto, anche le parole, trapanare, eh, sente che bellezza, incapsulare, otturare, è poesia, è poesia, la pastina è pronta, mi metto la mascherina e lei si rilassi, eh, rilassi, 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 a me che rilassi.